la raga il vostro amanteo della dino factory per un colpo di abbastanza speciale infatti qui abbiamo come ospite le saggiano è superpecchia ciao e si mette subito e si mette subito a fare no vabbè è una allora richi dimmi allora parliamo un po' del tuo canale youtube giusto? si è super rikigan ci sono pochissimi schegni ma che nome fantasioso non sapevo cosa fare ho detto vediamo preso tre parole a caso l'unite è venuto sta cagata qua c'è lo so fa una stronzata però non mi fatti cambiare il secondo me il canale è fatto come un mercato per esempio i miei deno factory c'è daio factory luna una i alcuni ci compongono ma io è chiamdino factory vabbè andiamo avanti noi due siamo quasi di nerd perchè siamo in casa non è un bel aprile solo che lui più nerd il mio è vero stagione perché ho gli occhiali ma ma c'è ma ma cosa ma questo cazzo ci ha bisogno di un'altra ma se tu giochi a patano allora tu giochi a minecraft beh metti alo più figo di minecraft ma anche tu giochi a mancarti e devo mettere anche un game play si è stato con frapp ecco raiamente anche lo che non fa di a tutto reali ed i dati identico sm non è vero non solo non sono grasso atti sono magro no vi giuro peserò non lo so non mi sono segnato giocatore allora allora io voglio vedere quanti video giocatori esistono sto mondo per noi tutti e che si vieno a seme con il giro da qua seme poi magari tu non sei se non hai una ragazza tra tre metri e mezzo a fine gioco pro ai miei pro ai miei con il dialogo è un video gioco porca miseria non c'è non è in casa si scelta vabbè io ho portato al progetto è stato site per ascoltando la speriamo che no secondo me tra poco così riscrive perché c'è ma chi sono stipendi idioti ma certo ora basta guardarci in faccia perchè proprio proprio perché ti non secondo padre ho una foto di un poce amo giallo si è una famosa citazione di benzo io ho detto c'è l'ho perché lui fa bene bene sui commenti un pollo si stanno a me lo è da sputare un insul monitor per favore non è vero che mi è vero che mi è vero a parte che lui fa amadona perchè usa sony vegas io invece o vegas no me lo ha creato un mio amico solo te lo posso no a me va bene il mio live movie maker ecco appunto usa live movie maker ah si ma lo fa è pregiudicato è uno sfigato ecco l'epoca di marco riporto proprio apposta c'è il dato tu quanti spieghi ai mi stai calmi oh si no io 105 io 450 grazie ragazzi siete epici io ho appena cominciato dai un po' di tempo di so ragazzi iscritti al mio canale siete epici come il cartigone shop epici puoi iscritti al tuo canale un po' di meno male no, ti ricordo che tu sei iscritto al mio canale netto quindi vuol dire che io sono da solo eh, in questo momento è vero vabbè vabbè cosa possiamo dire? non lo so spartiamo cosa a caso insomma diciamo che noi siamo di canale totalmente casuali cioè lui è tutto a caso io sono una persona a caso ma si ma ho deciso di andare su youtube per mettere le mie cover di brano, lui vedete la sua faccia io secondo me la mia faccia la vedete tra moltissimo tempo perché probabilmente qualcuno vuole ai tatti tachicardiaco come vedete al mio volto io l'avete già visto perché l'ho subito messo quando facevo le cover l'avete visto sono molti po' con le occhie e gli occhiali mentre su da vede no commentato la pulicata la tua va benissimo eh eh ecco l'una fa benissimo vabbè ma se per questa puntata cosa dire è tutto da matteo dell'aglio factory e super richi gun good bye raga tu hai saluto? ti vediamo sì allora lui ha un saluto saluto e basta ciao cosa devo dire good bye raga ciao 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 ciao